Ben trovati, non avrei mai voluto chiudere il ciclo settimanale di Nero su Bianco con una notizia così triste. Era il 2005, fine 2005, e venne in redazione per iniziare una collaborazione come cameraman, un giovane, venne nella redazione di RTS, la ricorderete, un giovane che aveva l'ambizione di voler fare questa professione. Come tutti i giovani era anche un po' agitato, per cui io cercavo sempre di placarlo, agitato per l'entusiasmo verso la professione. Poi Marco, perché parlo di Marco Semeraro, incominciò la collaborazione anche con l'altra nostra emittente, questa, Telerama. Purtroppo da questa mattina presto non c'è più. Rimane il ricordo di una persona che amava questo lavoro, come forse tutti quanti noi amiamo questo lavoro che non ha orari, che ha sacrifici, ma che ha anche tante soddisfazioni. Lo amava tanto e si impegnava sempre con il sorriso, con la sua estrema e grande disponibilità verso tutti quanti noi colleghi di Marco Semeraro. Ciao Marco! E mi stringo anche alla famiglia che ha perso, come noi, una cara persona. Ma purtroppo la televisione è anche poi, come dire, cronaca del quotidiano. E veniamo all'argomento odierno di Nero su Bianco. E sì, ci chiamano in causa quando devono disprezzare, quando devono semplicemente criticare, associando cose completamente differenti. La storia di un'emittente televisiva, la storia di un uomo e l'idea che infastidisce tutti i partiti politici e quindi tutte le coalizioni presenti nell'attuale momento politico italiano e anche regionale. Il venerdì di Repubblica, ultime dal sud, il Salento non è la Puglia. Beh, certo, il Salento storicamente non può essere la Puglia. Con una serie di affermazioni. In alcuna parte del pezzo di Repubblica si legge una posizione del comitato referendario per il sì alla regione Salento. Parlano soltanto i contrari. Da vendola affitto, ma principalmente si dà lo spazio e il taglio e l'analisi a quella che ha la politica del centro-sinistra contraria a questo progetto, come, ripeto, tutti gli apparati burocratici dei partiti. Come mai? Beh, certo, insomma, Repubblica, sapete che è schierata, come è schierato il giornale, è libero su altri fronti. Ed è schierata probabilmente con il governatore vendola. Lo vede come nuovo riferimento al posto di Bersani, ma non mi addentro in questo. Mi addentro nell'aspetto che la nostra libertà è autonomia. Vedete, io non ho parlato una volta in trasmissione della regione Salento, ma ne parlerò a questo punto, invitando il sì e il no e dibattendo. La nostra autonomia fa sì che il sottoscritto possa essere libero un giorno di parlare e di criticare il centro-destra, è avvenuto ieri, un giorno di criticare il centro-sinistra, è avvenuto l'altro ieri. Perché questo è il modo di fare informazione se vi è una libertà. E questa libertà può determinare, che cosa? Una rivoluzione delle coscienze, come diceva Calvino. E questa rivoluzione delle coscienze sta dando fastidio, per cui un collega, figlio di un altro collega che lavora da anni in Rai, forse non ci conosce accuratamente, anche se un salentino, ma probabilmente vivente in altre parti del nostro paese. Venisse qui e comprendesse, al di là del fatto che possa lavorare a Repubblica, e certo non ipotizzo una casta per carità, ma al di là che lavori a Repubblica, e prende atto di quelli che sono gli sforzi quotidiani che un emittente fa, nella libertà, nell'autonomia, e di un editore che garantisce tale libertà, e che oggi viene paragonato a vari leader internazionali, con una storia discutibile, ma che non riguarda assolutamente la xenofobia, perché qui noi non siamo tali, non siamo mai stati tali, viene solamente etichettato come il Berlusconi del Salento, per tentare di screditarlo, avendo la forza di aver unito migliaia e migliaia di uomini, di liberi professionisti, di notissimi professionisti, per cui non è vero, altro falso, che per ora il progetto non ha molto pubblico. Da Facebook alle testimonianze nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto, il molto pubblico c'è. Probabilmente sarebbe meglio che il collega venisse con noi a braccetto e comprendesse la storia di un'informazione libera e la storia delle idee libere, che possono transitare e lievitare, malgrado la burocrazia o gli apparati di partito sponsorizzati da alcuni giornali che cercano di tapparci la bocca. A lunedì!